Si sono introfulati prima da una parte, secondo quanto ho capito io, e poi sono venuti di qua a fare subbuglio. Sabato notte un gruppo di sbandati ha interrotto violentemente due feste di giovani ventenni al Forte Gazzera, provocando il ferimento di cinque ragazzi. L'incursione di quattro o cinque aggressori è avvenuta intorno a lunedì notte, quando alcuni ospiti delle feste, organizzate per un diciottesimo compleanno e una laurea, hanno allertato i volontari che gestiscono Forte Gazzera. Adesso sarà compito della polizia accertare, secondo le testimonianze che hanno avuto, su quello che è successo. Queste persone, queste quattro o cinque persone, cosa avrebbero fatto? Allora, hanno creato subbuglio prima su una festa e poi sull'altra. E in concreto? In concreto, hanno spaccato il materiale della seconda festa e quando i ragazzi di questa festa della laurea si sono agitati e dicendo cosa state facendo, li hanno presi abbottigliati in testa. I responsabili delle aggressioni sono scappati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Almeno cinque ragazzi rimasti feriti dalle bottigliate, che in queste ore si stanno recando dai carabinieri per sporgere denuncia. Anche l'associazione Forte Gazzera non esclude di poterlo fare. I volontari sono stanchi e arrabbiati, denunciano da tempo una situazione fuori controllo, con frequenti raid di tossicodipendenti e atti di vandalismo che li costringono a un lavoro incessante per mantenere puliti e dignitosi gli spazi a loro assegnati. Di notte abbiamo continue intrusioni, tanto è vero che abbiamo fatto più di qualche denuncia alla pulizia locale. Adesso io ti faccio vedere gli ultimi danni che abbiamo avuto, questo per dirti che non guardano in faccia nessuno, cioè entrano quando vogliono. Quello è un buco? Lo vedi il buco lì? Buchi nella recinzione per riuscire ad entrare, vandalizzare e spacciare, droga che i volontari trovano alle volte nelle fessure di panche e tavoli. Se noi troviamo la droga vuol dire che vengono a spacciare. Alcuni di questi balordi sono riusciti persino ad entrare nel Forte, scavalcando le recinzioni. Ci siamo accorti che sono entrati tra venerdì e sabato, perché abbiamo trovato delle bottiglie di birra sul piazzale del Forte. La mancanza di video sorveglianza è un problema segnalato dall'associazione. Mancando video sorveglianza, mancando la sorveglianza di notte, qui è terra di nessuno.